L'impianto non sapeva anche che cazzo era Signore e signori Senza prove Senza prove Mi hanno chiamato E il voto ci tiene a definire anche una situazione fondamentale Senza droghe Bravo voto Signore e signori Questa sera un'anteprima di quello che sarà il monorama Il 29 giugno Circo lo colombofili Forse DFFD Torniamo indietro di 30 anni di Ocanda Grazie Lux Prego il cazzo Per chi c'era degli anni 90 Se me ha spacchettato la batteria Se me ha spacchettato la batteria Come si spacchetta la batteria? I patos Oddio che ha anche la voce Non lo fate per il rinunso la voce Allora Non lo fate per il rinunso la voce Non lo fate per il rinunso la voce Grazie a tutti 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 Ciao Grazie a tutti 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 Grazie Grazie a tutti 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 Casino Grazie a tutti 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 Grazie a tutti